ELEZIONI EUROPEE D'AMMINISTRATIVE Il giorno del voto, urne aperte fino alle 23. In provincia di Brindisi si rinnovano i consigli comunali di Ostuni, Mesagne e Villacastelli. Lettera di minacce ai carabinieri di Brindisi, altri 9 carabinieri devono morire. Scritto a stampatello su un foglio lecapitato ai militari della stazione del quartiere Casale. Indagini in corso per risalire responsabile. Un'occasione per promuovere gli sport del mare e del territorio. Presentata la 34esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu. Parlano Giuseppe Danese, presidente del distretto nautico di Puglia, Oronzo Pennetta, delegato provinciale del CONI. Un libro sulle vittime della mafia, presentato a Francavilla Fontana, Palermo Connection, della scrittrice Petra Reschi. Il mercato immobiliare, secondo i dati forniti, è un settore in crescita anche nel territorio pugliese. Questo è verso dalla conferenza Brindisi-Mercato Dinamico anche grazie agli investitori, iniziativa che si è tenuta nel grande albergo internazionale. Tutela della biodiversità e sostenibilità ambientale, inaugurata una nuova condotta Slow Food in provincia di Brindisi a San Pietro Vernotico. Un altro nodo della rete di Madre Terra, ha dichiarato il legale rappresentante regionale Marcello Longo. Semifinale nazionale dei play-off, nello stadio Franco Fanuzzi, delle grandi occasioni di scena Brindisi-Lavello. Un cordiale saluto ed una buona domenica ai nostri telespettatori. L'abbiamo sentito dai titoli. Il giorno della voto si vota sia per le elezioni europee ma nel territorio di Brindisi anche per rinnovare i consigli comunali di tre comuni e quindi parliamo di Ostuni, Mesagne e Villa Castelli. Urne aperte fino alle 23. Sentiamo. È il giorno delle elezioni. Si vota per le europee e per le amministrative. Urne aperte per quanto riguarda l'Europa in 22 Stati membri. In Italia sarà possibile esprimere la propria preferenza fino alle 23. Il nostro Paese è diviso in cinque circoscrizioni elettorali. Nord-Occidentale, Nord-Orientale, Centrale, Meridionale e Insulare. Il voto di lista si scrive tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno X sul contrassegno che indica quella prescelta. Si possono esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si opti per le tre preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. In provincia di Brindisi inoltre si vota in tre comuni per il rinnovo del Consiglio Comunale. A Mesagne e sfida a cinque fra Antonio Calabrese, sostenuto da Mesagne in Comune, Carmine Di Mastro Donato con Fratelli d'Italia, Lega, Salvini Puglia e Mesagne moderata. Carlo Ferraro, candidato del Movimento 5 Stelle, Rosanna Saracino, sostenuta da Partito Democratico, Mesagne Democratica, La M, Mesagne Progressiste, Liberi Tutti. Ancora Antonio Matarrelli, Avanti Mesagne, Mesagne Viva, Mesagne Insieme, Mesagne Popolare, Lista Civica Vizzino, La Mia Città, Giovani Mesagnesi, Mesagne Civica, Mesagne al Centro. Quattro i candidati a sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini Puglia, Direzione Italia, Ostuni Futura, Fratelli d'Italia, Ostuni Tricolore, Obiettivo Comune. Domenico Pecere, candidato Movimento 5 Stelle, Angelo Pomes del Partito Democratico e Ostuni Viva. Ancora Domenico Tanzarella, sostenuto dalle liste Scelta Sociale, Tanzarella per Ostuni, Avanti Ostuni, Lista Ostuni, Ostuni Popolare e Uniti per Ostuni. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne domenica 9 giugno. A Villa Castelli invece il sindaco sarà eletto al primo turno. Si contendono la fascia Tricolore, Giovanni Barletta, con la lista Diventerà Bellissima, il sindaco uscente Vito Antonio Caliandro, sostenuto dalla lista Caliandro. Altri 9 carabinieri devono morire. Una lettera di minacce partita da Bari e recapitata a Brindisi nella stazione dei carabinieri della quartiere Casale si indaga per risalire responsabile di questo gesto. Un caso che comunque sembra essere chiaramente collegato, visto che oltre al messaggio c'era anche una foto del ragazzo. Quindi a Stefano Cucchi, la geometra romano, ucciso 9 anni fa. Una lettera di minacce, un messaggio scritto a mano in stampatello. Missiva partita da Bari e recapitata ai militari di Brindisi stazione Casale. Un laconico, altri 9 carabinieri devono morire. Parole chiare e inequivocabili accompagnate da un'immagine di Stefano Cucchi e giunte venerdì mattina in via Venezia. Chi lo ha inviato? Sono in corso indagini per risalire al responsabile. Si parte da un dato certo, l'unico per il momento. Brindisi è la città del carabiniere Francesco Tedesco, coinvolto nel caso che da anni fa discutere l'intera. E Tedesco risiede proprio nel quartiere Casale. Dopo 9 anni, il carabiniere Brindisino ha puntato il dito contro i colleghi, ha raccontato nel dettaglio quello che i suoi occhi hanno visto, il pestaggio del giovane geometra romano. Sarà stato un mitomane in cerca di visibilità, sarà pura speculazione. Sarà vendetta nei confronti dei militari dell'arma, colpiti già da altre frasi ingiuriose apparse in città. Per ora non è dato sapersi, la speranza è che il mistero sia presto svelato. Ed ora parliamo dell'evento che apre l'estate Brindisina. Da 34 anni ormai la regata internazionale Brindisi Corfu, ieri nella sede dell'autorità portuale di Brindisi. La presentazione ufficiale di questo evento, che non è soltanto sportivo, ma punta alla promozione del territorio. Su questo argomento sono stati intervistati il presidente del distretto nautico di Puglia, Giuseppe Danese e il delegato provinciale del CONI, Oronzo Pennetta. Sentiamo Fabrizio Caglianiello. 34esima edizione della regata internazionale Brindisi Corfu, un appuntamento con la tradizione del nostro territorio, che diventa sempre più importante. Presidente Danese. Penso che la 34esima edizione sarà tra le più importanti, con questi nuovi eventi, con tanti eventi attorno alla regata, molto importanti, frecce di colore, fanfara dei carabinieri. Un evento che rafforza, anzi eventi che rafforzano questo appuntamento con il mare, a cui Brindisi non può mancare. Uno scenario internazionale su cui si prospetta questa regata e fa prospettare il nostro territorio, i regadanti, occasione per far conoscere le nostre strutture, la nostra costa. Tutto positivo. E tra l'altro è un evento che unisce il territorio con il suo mare, finalmente. Beh sì, chiaramente noi da Brindisini, da Pugliesi, abbiamo la necessità di trovare un qualcosa, un evento, un argomento che unisca il cittadino al mare. Anche più eventi. Anche più eventi. La tradizione col mare, il porto, la città, è sempre un filo conduttore che noi Brindisini amiamo. Presidente, 34esima edizione della Brindisi Corfu ed è un appuntamento con la tradizione del nostro territorio. Ebbene, questa è una cosa per Brindisi importantissima, che la facciamo già da 24 anni, come hai detto prima tu, però è un appuntamento che non possiamo mai più mancare, perché ogni anno miglioriamo sempre di più l'organizzazione e sempre più vengono più barche e quindi è una cosa che deve continuare per sempre, fin quando ci sarà la forza del Presidente Teotitiche di impegnarsi a organizzare questa manifestazione. E poi unisce tutto, sport, tradizione, turismo? Vabbè, questo qui è uno dei tanti appuntamenti. Noi dobbiamo ampliare un po' il turismo, sapete bene che voi, tutta la città, si sta impegnando, speriamo che quest'anno abbiamo qualche risultato migliore. Ed ora ci spostiamo a Fasano per parlare di un sequestro di prodotto ittico, in particolare di cetrioli di mare, una specie che non può essere né raccolta né commercializzata. Ancora un'operazione da parte della Guardia Costiera Barese che dopo l'ingente sequestro di tonno rosso dei giorni scorsi a carico di un trasportatore siciliano proveniente da Mazzara del Vallo, ieri mattina, a seguito di un'ammirata attività di indagine, ha portato a termine un'altra operazione, condotta dagli uomini del Sesto Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, che ha consentito di accertare e sanzionare un'attività illegale connessa alla commercializzazione dei cosiddetti cetrioli di mare, sequestrandone circa 1.500 kg. Il prodotto ittico è stato rigettato in mare, restituendolo alla sua importante funzione di equilibratore dell'ecosistema marino. La raccolta indiscriminata di questo prodotto ittico infatti è motivo di grave danno ambientale che viene arrecato dai responsabili soggetti che da questa illecita attività traggono lauti guadagni commerciando il prodotto con operatori dei paesi orientali dove vengono usate oltre che nella catena alimentare anche nell'industria della Cosmesi. Il sequestro ha comportato la denuncia all'autorità giudiziaria di un commerciante di Esche di Fasano trattandosi di una specie ittica protetta di cui è vietata la raccolta e la commercializzazione. Un libro sulle vittime della mafia è stato presentato a Francavilla Fontana a Palermo Connection di Petra Reschi ce ne parla Filippo Melillo. L'associazione impegni e partecipazione del movimento politico-culturale Noi ci siamo per tenere viva la memoria di Francesco Ligorio giovane vittima di mafia assassinata a Francavilla Fontana l'11 novembre del 2010 hanno organizzato un momento di riflessione sul fenomeno criminale con la presentazione di uno spaccato della trattativa Stato-mafia cui fa riferimento il libro Palermo Connection della giornalista tedesca Petra Reschi. Sì, è un romanzo che ho scritto adesso ne ho scritto tre di questa serie con una donna magistrata magistrato antimafia siciliana ed è nata questa serie di libri dalla mia esperienza con la mafia in Germania che ho scritto vari libri non romanzi non fiction in cui sono stata soggetto di tante coerele e che alla fine avevo deciso per non farmi intimidire di più perché ovviamente la legge in Germania purtroppo permette a chiunque querellare un giornalista anche se tu hai a disposizione le fonti qualificate di anerire libri come è successo a me dunque tutti i giornalisti autori che hanno scritto libri sulla mafia in Germania sono stati querelati e tutti quanti hanno perso le loro querele e dunque non volevo farmi intimidire da questo e non mi volevo far impedire di continuare a scrivere libri sulla mafia e allora ho scelto questa maniera di scrivere romanzi perché è molto più difficile fare una querela, un romanzo la presentazione di questo volume si iscrive per una coincidenza in un filone di presentazioni di volumi su questo tema che sono venuti a Francavilla negli ultimi giorni e per una coincidenza ulteriore proprio nelle vicinanze insomma dell'anniversario dell'attentato di Palermo noto come l'attentatuni l'attentatuni che è costato la vita al giudice Falcone per cui questa sera siamo qui per ascoltare un altro punto di vista appunto su quello che accade in Sicilia e poi non soltanto in Sicilia perché la realtà la prospettiva nella quale dobbiamo ragionare è che la mafia allunghi i suoi tentacoli dappertutto e dappertutto la soglia di attenzione deve essere molto alta Allora parliamo della situazione del mercato immobiliare un settore che sarebbe in crescita nella regione Puglia questo almeno emerso da una conferenza che si è svolta a Brindisi nel grande albergo internazionale dal tema Brindisi mercato dinamico anche grazie agli investitori sentiamo Fabrizio Il rapporto con le banche è fattore fondamentale per chi vuole acquistare una casa l'andamento dell'economia le imprese il futuro delle famiglie sono alcuni degli elementi trattati nel corso della conferenza Brindisi mercato dinamico anche grazie agli investitori promosso da Tecnocase che ha visto tra i relatori Mauro Vizzino consigliere comunale pugliese Pierluigi Francioso presidente del lance di Brindisi e il notaio Michele Enrico ex sindaco e presidente della provincia al tavolo dei relatori nella sala del grande albergo internazionale di Brindisi tanti esperti del settore il mercato immobiliare secondo i dati forniti è un settore in crescita anche nel territorio pugliese nella provincia di Brindisi abbiamo analizzato che i dati sono in linea con quelli del mercato nazionale tranne che per alcuni sobalzi che a livello nazionale non vediamo probabilmente questo è dovuto al fatto che alcune banche locali influenzano molto il mercato ed anche probabilmente nei nostri territori si utilizza maggiormente la garanzia dello stato CONSAP ed essendo che l'anno scorso ha subito un'interruzione perché i fondi erano esauriti probabilmente ha influito negativamente sull'erogazione dei modi complessivi in generale il calo di numero di compravendite che si è avuto in Italia è del 54% Brindisi ha avuto un calo solo del 26% cosa potrebbe stimolare ulteriormente questo mercato? Allora per quanto riguarda il discorso dell'accesso al credito per fortuna sono stati confermati i mutui Consob e quindi questo ci lascia ben sperare per il futuro e per il numero delle compravendite una spinta sicuramente può essere data da un maggior numero di investitori visto che ciò che traina ancora molto il mercato immobiliare di Brindisi è sicuramente l'investimento specialmente nella zona della Valle di Tri in questo momento c'è una buona ripresa sia in termini di numeri di compravendite spesso a discapito dei prezzi dei valori perché chiaramente è tutto comunque segnato da quella che poi la politica del credito bancario perché il potere d'acquisto del cittadino poi chiaramente fa fronte a quello che è il valore dell'immobile domande d'offerta quindi c'è un aumento delle compravendite spesso a discapito dei prezzi questo però magari nei centri dei capoluoghi lo si sente un po' di meno perché chiaramente abbiamo immobili un po' più di pregio andiamo su un target di cliente magari un pochino più alto e quindi diciamo che i prezzi resistono a quello che è il calo e in alcuni casi come per esempio la città di Bari stanno dando qualche accenno al rialzo ecco in questo momento Linea alla regia tra poco seconda parte della telegiornale riprendiamo parlando di Slow Food perché è stata inaugurata nei giorni scorsi una nuova condotta quella di San Pietro Vernotico cresce Slow Food in provincia di Brindisi inaugurata nei giorni scorsi una nuova condotta a San Pietro Vernotico una squadra motivata e ricca di progetti per il futuro soddisfatti sia il fiduciario Tommaso Lanotte che è il legale rappresentante di Slow Food Puglia Marcello Longo a San Pietro Vernotico un piccolo nodo si è legato alla grande rete di Terra Madre per noi di Slow Food sapere che nasce una nuova condotta qui a San Pietro è qualcosa di veramente molto positivo il fatto il fatto che trovare tanti soci come in questa condotta così entusiasti così motivati non ci può far che piacere insieme lavoreremo per un futuro sempre più sostenibile più diverso hanno delle belle idee e noi non potevamo esimerci di far decollare questa bellissima realtà la condotta Slow Food San Pietro Vernotico è costituita da 56 soci naturalmente noi porteremo avanti i progetti relativi allo statuto di Slow Food quindi portiamo avanti i progetti relativi alla biodiversità e alla filosofia naturalmente Slow Food del cibo buono pulito e giusto al centro della condotta di San Pietro Vernotico ci sarà comunque il Mediterraneo che è stato sempre un territorio di scambi di pace di incontro e ora patrimonio dell'UNESCO è voglio dire uno dei principali settori in cui la biodiversità si diffonde con le varie specie di ulivo di grano che si specifica nel couscous nel pane azimo nel pane condito in diversi modi questo sarà il nostro principale obiettivo naturalmente facendo attenzione prestando attenzione ai contadini e ai pescatori del territorio il calcio semifinale di playoff il ritorno fra Brindisi e Lavello subito in collegamento con Fabrizio Caglianiello eccoci ci siamo ci siamo davvero pochi minuti e poi il Brindisi scenderà in campo per quella che è sicuramente la partita più importante della stagione forse una delle partite più importanti in assoluto degli ultimi anni semifinale di ritorno dei playoff nazionali per l'accesso alla Serie D si parte dal 3 a 2 in favore del Brindisi dell'andata il che significa che in virtù del regolamento che come abbiamo detto più volte è lo stesso delle competizioni europee per passare alla finalissima il Brindisi dovrà o vincere con qualsiasi risultato o pareggiare con qualsiasi risultato o potrebbe permettersi addirittura il lusso di perdere per una rete a zero e passerebbe in virtù dei tre gol segnati in trasferta in caso si andrebbe ai tempi supplementari dunque all'overtime se solo se dovesse verificarsi al Fanuzzi il risultato di 3 a 2 per il Lavello quindi se dovesse ricalcarsi a squadra invertita lo stesso risultato della gara di andata in quel caso ci sarebbero supplementari se dovesse persistere la parità poi i calci di rigore pubblico delle grandissime occasioni al Fanuzzi nonostante il tempo che non è dei migliori vi diciamo che questa mattina alle ore 11 diversi punti vendita in città si sono trovati nel panico perché sprovvisti di tagliandi la società ha provato a rifornire questi punti vendita o almeno alcuni di quelli dislocati in vari punti della città con altri biglietti sono invece disponibili ancora tagliandi presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi la squadra possiamo vedere queste immagini si è riunita alle 11.30 presso il ristorante Il Trullo in pieno centro su Corso Roma così come disposto dal club dalla società come sapete tra l'altro il Brindisi in questi playoff scende in campo con la maglia celebrativa griffato studio 100 oggi ci sarà un'altra sorpresa perché nel corso dell'incontro sarà presentata un'altra maglia celebrativa quella bianca con la scritta dorata playoff 2019 vedete stiamo vedendo in queste immagini l'interno del ristorante Il Trullo questi sono i tavoli che ospiteranno la squadra e l'intero staff tecnico prima anzi che hanno ospitato la squadra e l'intero staff tecnico prima del trasferimento al Franco Fanuzzi atmosfera serena ovviamente c'è grande concentrazione mister Olivieri ha detto più volte che ovviamente non bisogna pensare al risultato dell'andata ma bisogna concentrarsi esclusivamente su questo match senza fare troppi calcoli per il passaggio del turno e allora ascoltiamo proprio quello che ha dichiarato il tecnico bianco-azzurro alla vigilia di questo match mister Olivieri ultime ore prima del match di ritorno la condizione generale della squadra e come avete affrontato la settimana la settimana l'abbiamo affrontata bene consapevole della nostra forza abbiamo rivisto anche la partita quindi dobbiamo correggere qualche errore che abbiamo fatto ma la squadra psicologicamente mentalmente fisicamente sta bene e non vediamo l'ore anche di scendere in campo perché perché per noi giocare è l'unica cosa l'unica cosa che ci piace e che vogliamo 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 fare specialmente al Fanuzzi a mente fredda forse c'è il rammarico per quel secondo gol preso in un momento in cui la partita sembrava praticamente in ghiaccio sì c'è un po' di rammarico però ormai è alle spalle noi dobbiamo guardare avanti anche perché se guardiamo indietro ci viene solo un po' la depressione per quel gol noi dobbiamo ormai abbiamo metabolizzato abbiamo capito l'errore dobbiamo entrare in campo più determinati più decisi con voglia perché sappiamo la nostra forza e sappiamo quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare tornerà a disposizione Pignataro sì tornerà a disposizione Pignataro lui aspetta ormai da più di 60 giorni perché la squalifica l'ha tenuto lontano dai campi è carico e credo che possa dare quel qualcosa in più a questa squadra ha già in mente la formazione all'andata ci ha spiazzato un po' tutti con qualche scelta qualche novità che non ci aspettavamo non le chiediamo chiaramente l'undici titolare però potrebbero esserci delle variazioni Pignataro gioca questo è quello che vi posso dire una considerazione sul Lavello dopo averlo visto giocare è una buona squadra ha delle ottime individualità però da come è andata la gara ecco noi potevamo fare qualche gol in più questo sicuramente non abbiamo sfruttato quelle occasioni perché al di là di tutto loro hanno avuto quelle due occasioni i due gol con Gerardi e poi la palla che ha sfiorato il palo di Alissami per il resto credo che abbiano solo diciamo gestito un po' io credo che il Brindisi ha meritato la vittoria ma dobbiamo confermare questa vittoria e consolidare questo risultato qui al Fanuzzi ci sono diverse scuole di pensiero in questi casi Lavello parte da un gap deve recuperare il risultato c'è chi pensa che possa partire forte per provare a mettervi subito in difficoltà e chi invece che pensa che possa gestire per parte dell'incontro per poi provare la fondo finale nel secondo tempo La gestione non è nelle nostre qualità nel nostro bagaglio noi ci dobbiamo sempre comportare da Brindisi a prescindere da quello che poi sono i risultati a favore o meno questa squadra ha dimostrato che solo aggredendo può fare veramente bene Per quanto riguarda l'atmosfera che si è vissuta questa settimana lei ci aveva detto prima della partenza per Venosa non avevo mai vissuto una cosa del genere a proposito dell'accoglienza che avevano riservato i tifosi prima di raggiungere la Basilicata questa settimana state sentendo ancora di più la vicinanza della città e anche si avverte un po' di pressione No, la pressione è quella giusta la pressione è quella giusta e noi ci aspettiamo veramente il dodicesimo uomo in campo ci aspettiamo che il Fanuzzi sia pieno e che sostenga questa squadra e che accompagni questa squadra a raggiungere il proprio obiettivo cioè quello della Serie D Un'ultima precisazione per quanto riguarda la programmazione televisiva non è possibile effettuare dirette televisive per le gare interne è anche un fatto di stile che è sempre accompagnato noi di Studio 100 per non creare e arrecare alcun danno al club e alla società che ovviamente ha bisogno di avere gente allo stadio per spingere la squadra però Studio 100 dalle 14 e 55 sarà in diretta con uno speciale 100 goal live ci saremo io Anna Saponaro Andrea Contaldi la nostra redazione dunque al completo per raccontarvi con le interviste in tempo reale dei protagonisti è un ampio post partita tutto quello che accadrà in questa giornata così importante per la Brindisi calcistica poi stasera sulle nostre pagine facebook troverete anche tutti gli approfondimenti con i servizi sul match è tutto per il momento alle 15.30 allo stadio Fanuzzi Brindisi Ravello partita che vale un'intera stagione la linea può tornare ad Anna Saponaro grazie Fabrizio chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi arrivederci buon proseguimento di serata grazie a tutti